Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno anche a chi ha scelto di seguirci in streaming su nettunotv.tv appuntamento con la rassegna stampa del canale 99 per oggi mercoledì 28 febbraio buongiorno da parte di Francesca Bolognini iniziamo subito dai nostri quotidiani come di consueto andiamo a leggerele, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani locali in particolare dal resto del Carlino sezione Bologna la prima pagina nel taglio superiore la perla, lavoratori spaventati gli olandesi parlino con noi e il fondo Sapinda investiremo nello sviluppo fronte comune dei sindacati il solito film già visto, vogliamo risposte l'ex patron Masotti, la bolognesità del marchio è un valore assoluto qui si parla dell'accessione del marchio italiano e bolognese di la perla invece ha un proprietario straniero e poi ancora andiamo al centro della prima pagina del resto del Carlino la foto con frutta marcia siamo alla frutta il titolo banane quasi marcia e arance da buttare ecco la merenda all'elementari di via Saliceto l'ira dei genitori questo è il fatto di cronaca nel taglio laterale ancora il resto del Carlino Bologna SOS dal Trebo freddo polare in città, emergenza al Canile domani torna la neve poi ancora scorriamo in basso la prima pagina del resto del Carlino Bologna la sentenza d'appello a Emilia Roberta Tattini era la consulente della COSCA le motivazioni dei giudici, il ruolo della fiscalista andiamo a lato invece la Bernini voto meno 4 Forza Italia intercetterà gli indecisi e poi arte invece il Canova e dall'arca fotografi da migliori fotografati scusate da migliori andiamo all'interno invece adesso del resto del Carlino Bologna le prime due pagine sono interamente dedicate a quella che è la vicenda di La Perla della cessione della marchio e dell'azienda italiana e soprattutto bolognese la foto con alcune modelle al centro delle pagine i sindacati Sapinda venga a incontrarci nuovi proprietari il prossimo passo sarà una revisione del business per capire dove investire poi invece i lavoratori dicono la vendita, l'arrivo di un fondo l'incertezza per noi è un film già visto e poi ancora invece a lato patto lavoro l'assessore Marzocchi gestirà il piano e poi invece in alto nelle prime due pagine del resto del Carlino Bologna la storia un po' della cessione della Perla la nascita, la Perla, azienda di lingeri di lusso è stata fondata nel 1954 da Ada Masotti e guidata dal figlio Alberto fino nel 2008 e poi ancora GH Partners e la crisi la società in mano al fondo americano GH Partners finisce in liquidazione poi all'asta nel 2013 la corrompra scaglia Silvio Scaglia e la rinascita il fondatore di Omni Telefastware rilancia marchio allargando la produzione al pret-à-porter e poi invece l'ultimo atto l'ultimo capitolo arrivano gli olandesi dopo un mese e mezzo di trattative con i cinesi di Fosun la società viene ceduta al fondo olandese Sapinda Holding questa è un po' la storia della nascita, crescita e dell'accessione del marchio e dell'azienda La Perla ma si scorriamo ancora la pagina del resto del Carlino chi compra Bologna ci sono le varie foto delle aziende delle eccellenze bolognese Yux Pret-à-porter poi Ducati e Lamborghini e poi il Bologna FC con il patron saputo canadese e poi ancora la Phillips Morris invece con i suoi dirigenti poi ancora invece in basso si parla ancora ovviamente della Perla l'anima di questa azienda è qui per sottolineare ancora la bolognesità della Perla Alberto Masotti figlio di Ada ha guidato il marchio fino al 2008 e sotto a cura di Simone Arminio l'intervista proprio al figlio della fondatrice della casa di moda la Perla originaria si occupava esclusivamente di lingerie e costumi questo è un piccolo stralcio dell'intervista che vi propone il resto del Carlino andiamo avanti nelle nostre pagine del nostro quotidiano andiamo al caso invece della frutta marcia e sporca ai bambini tutto da buttare a circa 150-160 bimbi sono state servite banane troppo mature già marce e arance con la buccia nera di sporcizia ira dei genitori dell'elementare a Casaralta dove la comprano questa è la domanda che si fanno e poi la foto della banana marcia con scritto natura morta e poi ancora in passato Ribò aveva già sostituito la merenda perché ritenuta non adeguata e qua invece a lato ci sono i precedenti no a pranzi speciali e poi invece puntine e capelli all'interno del cibo scorriamo ancora avanti il resto del Carlino arriviamo a pagina 6 verso le urne si torna a parlare ovviamente di elezioni si andrà a votare il prossimo 4 marzo scusate le rendite di posizione sono finite i candidati e la sfida aperta per il seggio nel cuore della città tra i democratici qui il risultato più basso di tutta la provincia ma il clima sta migliorando e poi ancora le posizioni in campo qui abbiamo le varie posizioni De Maria del PD potremmo anche guadagnare consensi Scarano lega tanti scontenti di questa giunta e poi ancora la Carbonaro del Movimento 5 Stelle il colpaccio ci credo si può fare poi invece qua lega i grillini molti delusi da chi governa noi abbiamo dimostrato di saper amministrare poi nella foto centrale alle due pagine la sfida di a sinistra Errani e Bersani al Candileia Sdemarie e Critelli con volontari PD e Leu derby nelle case del popolo in basso invece nella stessa pagina 6 al paese serve ancora stabilità politica l'appello del ministro Galletti e i moderati necessari all'alleanza con i progressisti poi ancora pagina 7 invece ogni collegio può essere vinto Bernini e di Forza Italia solo noi siamo in grado di esprimere un governo le parole della Bernini la candidatura di Casini da Bolognese Cito Guccini ognuno vada dove vuole andare ognuno invecchi come gli pare ma a vederlo con i democratici fa impressione qua la foto della Bernini e poi ancora Brunelli sfida all'alba la candidata di Forza Italia al Senato al Collegio Nominionale di Bologna Elisabetta Brunelli lancia il guanto della sfida ai suoi avversari Casini Errani e Montevecchi invitandoli a un confronto su fisco e casa nella sede di Confedilizia alle 6 del mattino di domani e qui c'è l'intervista andiamo ancora avanti nel resto del Carlino pagina 8 processo Emilia Tattini era il consigliore della Cosca il ruolo della fiscalista bolognese legata all'andrangheta nelle motivazioni di appello questo è il titolo del giornale le accuse del resto del Carlino le accuse la donna rispondeva di concorso esterno in associazione mafiosa e l'estorsione ai danni di un imprenditore 60 condanne oltre alla Tattini sono stati condannati capi e figliati fiancheggiatori dell'Andrina compresi politici e giornalisti ancora 8 anni 8 mesi non si limitava a dare pareri consentiti ma collaborava agli affari illeciti del clan poi a lato invece davanti al GUP uccise la madre sull'infermità mentale scontro fra periti fatti di cronaca passiamo a pagina 9 dove ci sono i fatti di cronaca del giorno 7 rapine in un mese arrestati indagini della squadra mobile nel mirino le farmacie minimarket il patto con i cittadini Luca Armeni capo della squadra mobile indagini veloci produttive grazie alla collaborazione dei cittadini insieme facciamo una squadra a proposito proprio di Luca Armeni appunto andiamo a sentire quello che ci ha detto nel nostro servizio spiegandoci come sono andate le indagini proprio su questo fatto in un caso c'è stata data l'indicazione che poco prima la commissione di una rapina ai danni di una farmacia la stessa dottoressa si era insospettita perché un ragazzo ovviamente a volto scoperto era entrato in farmacia facendo finto di comprare un prodotto che poi non aveva acquistato la visione di quelle immagini ha dato un volto al rapinatore e è già conosciuto appunto dalla squadra mobile e da lì si è risolto si è dipanato la madassa e si è risolto il primo caso di rapina nel secondo quello che riguarda soprattutto esercizi commerciali come ortofrutta e minimarket invece è stato un gestore che ci ha dato la via dicendoci che uno dei due rapinatori poteva vivere in quella zona o poteva aver lavorato all'interno di un supermercato mettendo insieme i vari tasselli e le varie testimonianze siamo arrivati in tutti e due i casi ad eseguire delle perquisizioni a carico dei tre indagati che hanno confermato appunto la bontà delle ipotesi che erano state fatte fino all'ora sono state ritrovate sia le armi il coltello la pistola sia l'abbigliamento utilizzato per le rapine questo come in altre occasioni la collaborazione da parte dei cittadini da parte dei gestori è per noi un elemento fondamentale io considero l'opera della polizia di stato e quella dei cittadini un'opera che va in un'unica direzione insieme facciamo una squadra insieme possiamo essere vincenti ha sottolineato la velocità con la quale si sono risolti questi casi considerando il numero che sono le sette rapine più un furto avvenuto nell'arco di tre settimane diciamo tutto il mese di dicembre il lavoro dell'investigatore è stato celere veloce e produttivo e si è concluso appunto entro fine anno andiamo ancora avanti sulle pagine del resto del Carlino Bologna si torna a parlare di maltempo di meteo e di grande freddo quello che sta colpendo il Bologna ma non solo anche tutta l'Italia in questi giorni con Burian freddati il titolo in alto di pagina 11 emergenza Clochard l'Antoniano e la comunità Giovanni 23esimo ricordano che le loro strutture sono aperte per l'accoglienza questo ovviamente l'appello e poi ancora l'onda lunga del gelo riporta le nevicate battono i denti anche i cani del Trebo allerta meteo domani una nuova perturbazione ovviamente si fa riferimento anche ai cani che sono ospitati nei canili all'esterno fuori hanno bisogno di coperte e anche di cibo per resistere a questo grande freddo che sta colpendo l'Italia e poi ancora la denuncia Lilia Casali in mezzo canile ai riscaldamenti guasti ieri registrati meno 6,1 in città e poi ancora il prefetto Piantedosi meno blackout marchiamo Enel revocato il divieto ai mezzi pesanti ma resta lo stop verso Romagna e Marche che evidentemente hanno le strade e il tempo messo peggio in questo momento andiamo ancora avanti pagina 13 del resto del Carlino Bologna io chirurgo della mano fuori dal Rizzoli Boriani il mio compenso era inferiore al contratto degli specialisti di Modena questa la denuncia del medico l'analisi una scelta che non è di tipo economico lo IOR modello hub and spoke ancora avanti sul resto del Carlino Bologna unibò arrivano i rinforzi nel 2018 oltre 130 contratti a tempo indeterminato un angolo per le mamme in via Belmeloro sarà allestito uno spazio per l'allattamento conciliare studio e maternità questo è l'obiettivo e poi ancora mancano laureati in informatica i numeri della ricerca Excelsior indicano l'urgenza sono 1500 laureati in ingegneria informatica richiesti dalle imprese bolognesi nel 2017 ma almeno la metà non si trova la camera di commercio aiuta 300 mila euro di contributi per gli studenti e poi ancora spostiamoci in basso sempre a pagina 15 del resto del Carlino l'associazione finanzierà in regione 37 progetti di ricerca per le patologie tumorali lotta al cancro 3,7 milioni da spendere sul territorio torniamo a parlare ovviamente dell'unibò e delle assunzioni che dovrebbero arrivare nel 2018 oltre 130 contatti dicevamo e allora proprio il consiglio d'amministrazione è stato è stato lui a consentire le nuove assunzioni a tempo indeterminato andiamo a sentire il direttore generale di unibò degli esposti si tratta di una misura molto molto importante sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista qualitativo il consiglio di amministrazione ha accolto la proposta del rettore di approvare una misura assunzionale che consente il recupero totale del turnover intervenuto nell'anno 2017 quindi tutte le cessazioni per vari motivi intervenute nel 2017 più una misura aggiuntiva finalizzata ad alcuni ambiti strategici per l'Ateneo segnatamente i tecnici di laboratorio il supporto alla ricerca in particolare alla progettazione europea il supporto ai processi di internazionalizzazione didattica internazionale servizio agli studenti internazionali il complesso di questa manovra è 100 unità di personale alle quali si aggiungono i reclutamenti resi possibili dalla misura ministeriale dipartimenti eccellenti dell'Ateneo Bologna è risultato essere il primo Ateneo d'Italia con 14 progetti approvati su 15 e in questa misura potremo reclutare ulteriori 30 unità di personale su profili tecnici ma anche amministrativo gestionali torniamo sulle pagine del resto del Carlino la cronaca di Bologna si torna a parlare del caso del calciatore del Bologna che ha investito la dodicenne Cheita dodicenne investita in auto indagine sul cellulare di Cheita verranno ascoltati anche i tabulati telefonici del giocatore rosso-blu e poi ancora pagina 17 accordo tra confabitare e SAP fitti sconti per i poliziotti e a proposito proprio di questo è stato presentato ieri l'accordo appunto per il reperimento di alloggi a carone agevolato per le forze dell'ordine da parte di confabitare ce lo spiega meglio la convenzione Alberto Zanni presidente di confabitare nell'intervista di Leonora Monari è un accordo che abbiamo sottoscritto con il SAP sindacato di polizia che ha l'obiettivo di aiutare tutti gli operatori delle forze dell'ordine quindi a partire dalla polizia ma carabinieri guardia di finanza e tutti gli altri operatori a reperire degli alloggi intanto a reperire degli alloggi con dei canoni più bassi ridotti proprio in virtù della serietà e dell'assolvibilità che hanno queste persone queste famiglie perché sappiamo che gli agenti di polizia i carabinieri eccetera pagano sempre puntualmente gli affitti visto anche la serietà per il lavoro che fanno quindi diciamo per un proprietario di casa avere un inquilino che è un componente della polizia dei carabinieri da guardia di finanza è sicuramente una garanzia ma lo facciamo anche per la sicurezza nella città quindi per evitare che queste famiglie vengano ghettizzate all'interno degli stessi condominio delle stesse zone ma che vengono come dire sparsi un po' per tutta la città in modo da poter avere un controllo del territorio anche attraverso questa presenza di polizia e carabinieri quando abitano nelle loro case e sullo stesso argomento andiamo a sentire il sindacato autonomo di polizia sulla questione l'intervista però è al segretario generale Gianni Tonelli ancora Rilon Ramonari è una cosa molto importante sulla quale col presidente Zanni stiamo lavorando da parecchio tempo per cercare non soltanto nel capoluogo bolognese ma in tutte le parti d'Italia di venire incontro alle famiglie degli operatori delle forze dell'ordine questa convenzione è l'equivalente di un contratto di lavoro perché si tratta di poter accedere ad uno sconto del 10% su quello che sono i canoni di locazione e quindi abbiamo chiesto anche al presidente non soltanto di riservare gli iscritti SAP ma tutti gli appartenenti alla polizia di stato all'arma dei carabinieri alla guerra di finanza alla polizia penitenziaria e anche a tutti quelli che sono gli altri forze dell'esercito vigili del fuoco e anche vigili urbani questo perché è importante per tutta Italia e anche per Bologna soprattutto Bologna diventa una città anche per i costi e sempre meno ospitale per gli appartenenti alle forze dell'ordine e quindi è importante è una cosa sulla quale avevamo stimolato anche l'ente pubblico ma non eravamo riusciti a trovare una sensibilità in tal senso per far sì che gli operatori che arrivino a Bologna poi rimangano perché Bologna diventa un'università anche per le forze di polizia e dopo 10-15 anni che sono a Bologna che hanno maturato il diritto al trasferimento sono obbligate chiaramente a doversi ritrasferire nelle zone d'origine se noi riusciamo invece con anche una politica per la casa in maniera adeguata noi riusciremo a mantenere dei livelli di professionalità elevati sul territorio da parte delle forze dell'ordine e questo ne potrà essere solo che un giovamento per la comunità bolognese ritorniamo sulle pagine del resto del Carlino Bologna ancora pagina 17 Sport all'aperto e Subacque Outdoor Expo e Audi Show alla fiera debutto da venerdì centinaia di espositori attesi gli alpinisti Meroy e Bennett tra gli ospiti anche Zuccari campione di discesa meno 75 no limits questo l'evento andiamo scorriamo ancora le pagine del resto del Carlino Bologna arriviamo alla sezione della provincia e area metropolitana due uomini contagiati dalla Leismaniosi Monte San Pietro le vittime sono un ragazzo di 20 anni e un anziano di 70 i genitori del giovane nostro figlio ha avuto la febbra 40 abbiamo temuto per la sua vita nel 2017 invece le pillole qui a lato della pagina nel 2017 sono stati due i morti per Leismaniosi due pensionati bolognesi che trasfocorrevano buona parte del loro tempo libero nella collina di San Lazzaro di Savena la trasmissione la Leismaniosi non si trasmette direttamente dal cane all'uomo responsabile del contagio è la puntura di un insetto il pappataccio dalle dimensioni di un moscerino questo per avvertire anche i cittadini e poi ancora Budrio Morandi e Carboni invitati alla serata per Davide Fabri per l'anniversario dell'uccisione della barista della Riccardina lo ricorderete la prima vittima almeno nel bolognese conosciuta è venuta alle cronache di Igor il russo gli amici hanno organizzato una festa in musica pagina 22 ancora avanti con il resto del Carlino Bologna il libro degli amici di Margherita Casalecchio il ricordo del barista Ventura a un anno dalla scomparsa questo è il ricordo il corso di primo intervento inizia domani alle 20 alla Casa della Solidarietà di Casalecchio il corso gratuito di primo intervento sanitario alla pubblica assistenza poi ancora pagina 23 San Lazzaro e Valle dell'Idice Scuole e Verde ecco tutti gli investimenti Ozzano che è al bilancio tasse invariate in arrivo 5 milioni per le nuove opere il sindacato Luca Lelli siamo riusciti per tre anni a mantenere inalterati i servizi offerti senza aumentare i costi e poi ancora invece in basso a pagina 23 sempre San Lazzaro artisti, musicisti attori e fotografi il comune va a caccia di creativi il sindaco Conti in due anni abbiamo messo a disposizione 60 mila euro che hanno nutrito i cuori andiamo ancora avanti pagina 25 Castel San Pietro un invaso anti città Valle del Depuratore 100 mila metri cubi d'acqua per l'agricoltura questa per Castel San Pietro ancora avanti il resto del Carlino questo è il circondario Medicina ci spostiamo a Medicina cacciati mendicanti molesti servizio di controllo dei carabinieri al centro Medici il sindacato Rambaldi i nostri militari sono dei baluardi per la sicurezza dei cittadini poi ancora Medicina al Luna Park mosso dall'energia di Giulio fantateatro domani alla sala del suffragio in pianura invece pagina 27 niente bretella al parco non si tocca San Pietro il progetto dell'area parrocchiale opposizione e cittadini contro il comune e poi ancora in basso San Giovanni premiato Lambertini la medaglia d'argento per la 2000 piante di Luca scusate ancora ci spostiamo in montagna pagina 28 bici cartelloni e mappe inedite il giro per riscoprire l'appennino Gaggio il piano triennale presentato da Ascom con il ministro Galletti e poi ancora nel resto del Carlino anzi andiamo avanti nel resto del Carlino e lo andiamo a mettere da parte la sezione ovviamente di Bologna ci spostiamo a quello che è invece l'inserto del QS sempre del resto del Carlino il quotidiano sportivo prima pagina al momento è adesso con la foto di un'azione della scorsa partita del Bologna e poi in basso invece Vettel vola anche sul ghiaccio la Ferrari convince nei test poi prima Juve Atalanta poi c'è Lazio Milan in palio un posto in finale in Coppa Italia basket serie A la Virtus al lavoro pensando a Venezia in palestra c'è Aradori e poi basket ancora serie A2 la guardia dalla carica Cinciarini scommette sulla fortitudo la squadra è al top può dire la sua andiamo all'interno del QS del resto del Carlino stasera la Coppa Italia appuntamento con le semifinali Mister Lì corsa per il capitale del Milan poi invece in mezzo alle due pagine Gattuso sfida con Gattuso sfida Enzaghi con Kalinic e poi ancora in basso Micicè l'uomo giusto per la Lega di A la proposta di Malagol commissario fa il nome del presidente di Banca Imi e poi ancora invece Allegri contro Ia Veleni nessuno si scansa Scoglio Gasp per il finale poi sotto la Formula 1 Vettel accende il fuoco rosso anche sul ghiaccio scorriamo ancora avanti poi l'intervista nelle pagine 4 e 5 del QS Bologna accelera e la SPAL si salva sentite Zaccheroni penso ai ragazzi di Donadoni vogliono accorciare penso che i ragazzi di Donadoni vogliano accorciare il gap con chi sta davanti e qui c'è l'intervista pagina 5 invece Gabbiadini Hernández consigli per gli acquisti il mercato non dorme mai tra le offerte spunta al nome anche di Bojan Bojan scusate Cervellati semplici dice semplici e Donadoni attenti il portiere il doppio ex Cervellati e poi ancora in due ore e mezza volatilizzati 1600 biglietti questo per la trasferta prossima alla Mazza di Ferrara ancora avanti passiamo al basket la basket serie A2 venerdì le Final 8 la fortitude in palla a Iesi si va per vincere invece in basso la Virtus sorride Aradori torna ad allenarsi Ale Gentile rientrerà tra sette giorni andiamo a chiudere anche il quotidiano sportivo del resto del Carlino Bologna andiamo invece sulla prima pagina della Repubblica di Bologna Emilia sotto zero ancora maltempo ancora ondata di freddo scuole chiuse rischio neve cresce l'emergenza maltempo in regione stato d'allerta delle ferrovie per domani e poi qua invece le cosche viste dai giudici in Emilia era una holding andiamo all'interno della di Repubblica Bologna andiamo a vedere quello che è il titolo delle prime due pagine l'Emilia resta al gelo e a rischio nevicate allarme delle ferrovie con le immagini dei paesaggi completamente imbiancati e poi ancora in alto a pagina tre situazione ingestibile ma stacchi a Monzuno informo tutti su Facebook e poi ancora Fabri noi isolati a Comacchio tra le buche lo scuolabus non è sicuro ancora Repubblica Bologna Bologna ha votato anche dall'estero sono più di 17.000 i nostri concittadini che vivono in paesi stranieri a questi si sono aggiunti 372 elettori così anche chi era in giro per il mondo ha fatto richiesta di poter esercitare il proprio diritto ovviamente si parla delle prossime elezioni del 4 marzo e poi Lorenzo Dada Car spera nel postino gli ostacoli di chi vuole votare dall'Africa il gruppo di chi lavora nelle capitali europee per noi è importante dicono il candidato Fanti figlio d'arte corre da Bruxelles ancora avanti su Repubblica Emilia i giudici qui lendrine sono una holding del crimine nelle motivazioni delle sentenze in abbreviato i legami fra criminalità politica e economia la borghesia mafiosa è chiamata così e poi qua invece andiamo a parlare di rifiuti l'inchiesta il clan del business dei rifiuti l'antimafia indaga lungo la via Emilia è proprio ieri mattina infatti c'è stata una conferenza stampa del comando forestale dei carabinieri i nostri microfoni ha parlato Giuseppe Giove comandante del corpo forestale dei carabinieri dell'Emilia Romagna facendo appunto il punto scusate il gioco di parole del traffico illecito dei rifiuti e sulla sicurezza anche delle piste da sci oltre 42 mila controlli oltre 13 mila persone controllate oltre 650 informative di reato con numerosissimi soggetti segnalati alle varie procure della Repubblica e della Regione vari sequestri perquisizioni e arresti effettuati nel contesto di questi controlli in modo particolare io vorrei far rilevare l'attenzione su tre argomenti principali il traffico illecito di rifiuti che ha assunto una certa dimensione in certi frangenti specie per la presenza di una criminalità economica abbastanza cospicua e poi oltre al traffico illecito di rifiuti dobbiamo segnalare una situazione abbastanza complessa relativa alla situazione di alcuni corsi d'acqua in modo particolare del Po dove ci sono stati ci sono c'è una specie di perseveranza di gruppi criminali che provengono in modo particolare dalla Romania dall'Albania parlo dei Lipoveni che è una specie di etnia rumena dall'Albania e dalla Moldavia che in maniera organizzata pescano questo con tutti i modi con tutti i sistemi il pesce siluro per poi rimetterlo sui mercati un'altra problematica molto importante che stiamo in modo particolare vagliando è la sicurezza sulle piste da sci e sulle valanghe specie in questo periodo in cui la problematica è molto forte Pagina 8 di Repubblica Bologna si torna a parlare della perla conti in rosso e cause legali nella nuova perla all'olandese i compratori di Sapinda hanno chiuso gli ultimi due bilanci in disavanzo contro di loro anche azioni sugli investimenti queste sono un po' le domande che si fanno i lavoratori della perla andando anche a capire chi sono i nuovi compratori dell'azienda italiana e bolognese e poi ancora il caso sempre in ritardo un treno su dieci in un anno 1800 quelli cancellati il bilancio 2017 della regione sulla puntualità nelle tratte maglia nera della Fidenza Cremona per i coinvogli Lumaca il lavoro invece l'Alma Mater assumerà 130 amministrativi sono a parlare delle nuove assunzioni che verranno fatte dall'Alma Mater a tempo indeterminato criminalità poi banditi dei negozi incastrati dalle telecamere tre gli arresti individuati dalla mobile gli autori di sette rapine di un furto messi a segno in centro e al quartiere Savena colpiti farmacie e piccoli market andiamo avanti nella Repubblica Bologna si passa alla parte sportiva di Repubblica la foto di Simone Verdi nella prima pagina dello sport di Repubblica verso il derby Donadoni ritrova Verdi e gli riconsegna la squadra il Bologna Casteldebole a porte chiuse ieri doppio allenamento con Poli che ha lavorato a parte oggi Donadoni ritrova Di Francesco che torna dallo stagio azzurro e chiude i cancelli per provare la squadra antispalle poi invece dall'altra parte la spalla semplice aspetta Meret schiattarelle squalificato Meret e Grassi rientrano oggi dallo stagio azzurro di Coverciano lavoro differenziato per Salomon Salomon scusate K.O. a una caviglia Crotone ancora fuori Borriello mentre invece qua si vada Fabio Capello incancellabile Spal il mio viaggio partì in quel magico 64 a Ferrara diveni calciatore Mazza e Gibi Fabri due veri maestri peccato che noi l'anno del titolo rosso-blu finimmo in B Donadoni è troppo per bere non viene apprezzato per quel che vale poi ogni allenatore fa il vino con l'uva che ha questa l'intervista a Fabio Capello andiamo ancora avanti la società diabolica Eva Kent c'è chi sulle tavole non invecchia mai poi nel secolo della peste la vita del romanzo del pittore Guercino qua siamo a cultura e spettacoli ovviamente per quanto riguarda Repubblica Bologna andiamo a chiudere anche il quotidiano di Repubblica Bologna ci spostiamo invece sul Corriere di Bologna ancora la prima pagina sempre del Corriere di Bologna soldi autonomia torna Gentiloni nel taglio superiore la campagna elettorale il premier ospite del governatore poi invece al centro sicurezza telecamere bando record sono 150 le aziende che hanno risposto alla gara del comune vale 650 mila euro l'obiettivo dell'amministrazione è dotare di occhi elettronici intelligenti parchi pubblici e tangenziale poi scorriamo ancora la prima pagina lateralmente l'analisi dei giudici la borghesia mafiosa in Emilia ma il tempo il prefetto non è ancora finita piantedosi Roma qui un po' più orgogliosi di come stanno andando le cose poi invece ancora la cessione della perla vulcanico e controverso chi è l'uomo di Sapinda andiamo all'interno del Corriere di Bologna autonomia e cipe il gentiloni dei andiamo a leggere l'articolo incontri e firme a caccia di voti la foto poi qua di Renzi Bonaccini e Gentiloni e poi il PD il riservista Bonaccini la giusta distanza da Renzi e gli scenari del dopo elezioni poi ancora pagina 3 invece in primo piano l'intervista il cambiamento riparte anche dal pullman del 95 Sant'Agata a votare l'EU no ci stiamo ci stiamo giocando molto e ma Bonino vorrei essere sicuro che Bonino e i suoi condividano quest'idea di un centro-sinistra ampio e plurale noi di sicuro la condividiamo e poi il rapporto con Prodi mi dà degli ordini con dei consigli poi scherzo ma non mi dà consigli particolari se non quello di individuare argomenti che ci distinguono dagli altri e in basso invece gli islamici di seconda generazione la tentazione del voto ai 5 stelle il focus i musulmani di Bologna la Fram la posizione dei grillini sugli immigrati non è chiara chi di voi li voterà lo farà solo per rabbia se le sue parole ancora corriere di Bologna si torna a parlare ovviamente di gelo e di freddo neve e gelo scuole aperte ma resta l'allerta ora in Appennino il pericolo sono le frane la preoccupazione dei sindaci dei comuni montani per gli smottamenti oggi termometro a meno 12 il prefetto Piantedosi non è ancora finita ma è andata bene Roma siamo un po' più orgogliosi e poi ancora la foto dei paesaggi innevati qua in particolare del porto della riviera le strade strade salate sicure le buche rattoppiamo ai tini per riasfaltare servono altre risorse avrete notato ovviamente che in giro causa il sale causa il gelo ci sono aperte varie voragini e buche sulle strade purtroppo che dovranno assolutamente essere sistemate poi ancora sicurezza grande fratello da record tutti in fila per il bando del comune oltre 150 offerte per potenziare il sistema di telecamere gara da 650 mila euro che è della questura i nuovi dispositivi sono previsti in quattro parchi e negli svincoli della tangenziale e poi ancora in basso la cronaca sette rapine in un mese tre ai domiciliari prese di mira farmacie e negozietti di pakistani con coltello e pistole giocattolo gli indizi incastrati grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini delle telecamere abbiamo sentito anche il servizio del comandante armeni ancora i colletti bianchi al servizio dei clan in emilia una borghesia mafiosa andrangheta le motivazioni dell'appello pagliani portavoce politico della cosca su tattini la fiscalista ha dato un contributo concreto grazie a lei il clan è entrato nell'impresa di un cliente su pagliani un tassello essenziale la sponda per l'attacco politico e mediatico contro le interdittive del prefetto e poi il pentito ora sono imprenditori e politici che cercano l'andrangheta la chiave per tutte le serrature ancora avanti l'intervista e il rilancio della fondazione di Lucio Dalla ora ci serve un manager il nuovo presidente Faccani basta errori lavoriamo insieme questa è l'intervista poi ancora in basso nel Corriere di Bologna 20 posti da infermiere Malivuoli Hamburgoli per una paga vera alla selezione si sono presentati in 51 e poi ancora in alto a lato Alma Mater in arrivo 130 assunzioni ne parlavamo prima anche con il nostro servizio economia invece precoce vulcanico e controverso chi è il tedesco che ha preso la perla si torna a parlare del cambio di proprietà dell'azienda bolognese Windorst ha fondato Sapinda poi frenetici alti e bassi nel mondo della finanza queste anche le preoccupazioni sul nuovo proprietario il coro di Tabellini e Palmacosti rafforzare l'azienda sul territorio poi ancora si passa allo sport del Corriere di Bologna il Bologna punto salvo a febbraio lo sviluppo tecnico qualità troppo bassa pochi miglioramenti qualcuno si è perso e poi invece i risultati serie A difesa senza affanni squadra più 5 rispetto al 2017 il mercato il meglio è arrivato a parametro 0 Ursolini è la speranza i piccoli stralci e poi in alto focus la classifica con Donadoni prestazioni e gradimento molto meno il club ha la salvezza in pugno insufficiente il rendimento però di molti nuovi acquisti verdi e pulgar sono certezze destro resta una stella andiamo ancora avanti parliamo di basket la Virtus il tempo delle scelte entro un mese il nuovo general manager poi parte lo sviluppo tecnico alberani col da belle tra i notti profili più osservati oggi primo nodo gentile dei rinnovi e della valle possibile obiettivo della Virtus andiamo a chiudere anche il corriere di Bologna andiamo invece adesso a prendere altri altri servizi della nostra rassegna stampa all'istituto Verità ti Splendro si è tenuta a una tavola rotonda la dipendenza da gioco d'azzardo a Bologna e in Romagna evidenze da una ricerca promossa da fondazione IPSR istituto petroniano studi sociali Emilia Romagna la dipendenza da gioco d'azzardo è qualcosa che si può affrontare queste le parole dell'arcivescovo Zuppi in l'intervista di Elisa Orlando tutte le dipendenze sono complicate innanzitutto bisogna riconoscerla anche questo non è facile bisogna aiutare a riconoscerla e anche questo non è facile bisogna farsi aiutare credo che capirla e capire che è una dipendenza è la premessa per poi potersi liberare il comune di Bologna ha fatto una delibera recentemente per cui non si possono posizionare delle sale slot all'interno dei locali vicino a luoghi sensibili lei cosa ne pensa? assolutamente favorevole gli inglesi e gli italiani il venire hanno insistito molto sul gioco e su tutte le pervasive i pervasivi interessi che questo poi mette in moto per cui è una nella direzione giusta credo che ci sarà un tempo di applicazione speriamo che questo vada avanti e speriamo che altri comuni prendano esempio da questo cambiamo argomento torniamo a parlare di FICO venerdì 9 marzo si terrà si terrà un evento a FICO Italy World dedicato al welfare aziendale come vantaggio per aziende e dipendenti ce ne parla il direttore di RS Nicola D'Adamo che in primis ha organizzato l'evento l'intervista ancora di Eleonora Monari nell'arco di nove anni siamo passati da un'associazione culturale a qualcosa di più importante parliamo di una start up innovativa di grandi idee di grandi progetti e diciamo con l'evento che andremo a fare il nome di marzo andiamo a proporre tutta una serie di attività nuove che racchiudono tutta l'essenza e i valori del progetto circa 200 invitati dentro FICO è una piazza sicuramente che ci lascia la possibilità di poterci esprimere in grande stile abbiamo invitato grandi partner tra questi cooperative Carisbo e tanti altri abbiamo anche grandi sponsor come dei SPA come Easy Welfare come Welfare Land e crediamo di poter fare molto bene di poter parlare di welfare benessere aziendale e soprattutto di fornire delle soluzioni concrete quindi sarà un grande confronto aperto a tutti i protagonisti del welfare aziendale e diremo il nostro per quello che potrebbe essere il nostro ruolo per quello che è il nostro ruolo all'interno di una realtà aziendale come si può partecipare all'evento? allora per partecipare all'evento bisogna andare sul sito www.vaom2018.it lì c'è l'area iscrizione chiaramente ci aspettiamo che ci siano soprattutto imprenditori manager responsabili delle risorse umane e torniamo sulle prime pagine dei quotidiani questa volta lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali iniziamo dalla prima pagina del resto del carlino in alto scuole casaralta lira dei genitori frutta marcia i nostri bimbi e poi ancora la perla marchio venduto i lavoratori gli olandesi ci incontrino nella parte centrale la foto principale della prima pagina il grande freddo il paesaggio tutto imbiancato Italia nella morsa trasporti ancora nel caos muore senza tetto a Milano oggi tregua ma domani arrivano le bufere di neve e poi ancora nei tagli laterali il tramonto del diesel stop a Roma dal 2024 Germania è già pronta fatale lo scandalo delle emissioni e poi ancora in basso la politica intervista Grasso cerca i voti grillini tornate a sinistra questo l'appello la lista completata Di Maio scrive a Mattarella ecco i nomi dei ministri nel taglio inferiori invece assunzione per 10.000 giovani rivoluzione dalle poste i pacchi consegnati anche la domenica e poi abusi in Siria insabbiati sesso in cambio di cibo anche l'ONU finisce sotto accusa Repubblica invece la prima pagina di Repubblica Nazionale processo alle ferrovie abbiamo sbagliato Mazzoncini chiedo scusa agli italiani domani ondata di gelo al nord a lato invece a destra Di Maio manda al colle la lista dei ministri Gentilone è surreale dice e poi ancora la Slovacchia la taglia sui killer del cronista l'ombra dell'endrangheta e poi invece in basso la parte sportiva il titolo sportivo l'intervista Federer da qui all'eternità il mio segreto la rinuncia questa è Repubblica il Corriere della Sera invece la pagina la foto della prima pagina ancora con l'Italia nella morsa del freddo l'emergenza ancora 43 treni cancellati Napoli caos neve scuole chiuse dal sud al nord ci spostiamo scorrendo la prima pagina del Corriere della Sera lista al colle il caso Di Maio e nella centrodestra Berlusconi lancia Tagliani salta al comizio con Salvini e Meloni poi ancora a lato invece addio a Moratti Letizia dava avanti con i suoi progetti in un mese poi ancora in basso sparate in rete 128 fake news poi l'anticipo il rischio di una forzatura la mossa dei 5 stelle questa è poi la raggi proibisce il diesel andiamo ancora scorriamo ancora i quotidiani arriviamo alla stampa la prima pagina della stampa Palazzo Chigi Di Maio fa le prove nomina i ministri li riunisce manda via mail l'elenco al colle Gentiloni festival surreale e poi ancora l'assalto agli indecisi incubo gelo sulle urne i sondaggisti questa campagna è stata triste non ha appassionato e poi ancora l'indagine un candidato su 5 corre lontano dal suo collegio non solo boschi record al centro-destra così i leader hanno imposto i loro nomi nella foto centrale della pagina petrolio il record USA che scavalca Putin l'annuncio della sindaca Raggi stop alle auto diesel nel centro di Roma a partire dal 2024 ancora quotidiani questa volta è il turno del giornale la prof che urla poliziotti dovete morire questa scuola politica e poi ancora invece in alto con la foto di Berlusconi il cavaliere è pronto a candidarsi se si tornerà al voto Berlusconi un anno per fare il premier i 5 stelle mandano la lista dei ministri al Quirinale Gentiloni furioso e poi ancora appello degli imam nell'urna nell'urna all'avi vede islamici votate a sinistra i musulmani punteranno sul PD scegliete chi vuole lo Ius soli e poi ancora apparsa al comizio di Salvini la bandiera dei finti neonazisti ultima fake news della sinistra e poi ancora la scalata mondiale a Sky trema lo squalo Mardoc la sfida di Comcast poi ancora Siria bufera sulle ONG sesso in cambio di cibo questo è il giornale l'ultimo quotidiano per noi la prima pagina dell'avvenire maltempo Napoli sotto la neve treni sempre in crisi collegamenti difficili questo nel taglio superiore poi ancora la lotta all'inquinamento nelle città di Isel Raggi lo vuole vietare a Roma dal 2024 in Germania e Comuni ora possono bandirlo e poi scorriamo la prima pagina al centro il ricatto peggiore in Siria denunciati abusi di operatori dell'ONU la tregua non regge ancora razzi sulla gutta il fatto un altro dramma della guerra cooperanti anche di alcune ONG avrebbero preteso attenzioni dalle donne in cambio di cibo le foto poi corridoi umanitari strada del bene poi ancora senza tetto soccorsi ma un morto a Milano questo ovviamente purtroppo per il grande freddo che sta avvolgendo tutta l'Italia poi ancora Gerusalemme riapre il santo sepolcro Netanyahu sospende la tassazione si torna a parlare di politica qui è Movimento 5 Stelle Ministri e Gaff Berlusconi lancia Tajani Di Maio invia i 18 nomi al Quirinale via Mail Gentilone Surreale adesso l'intervista poi al Ministro dello Sviluppo Calenda serve governo vero e c'è il fondo crisi di imprese poi la sfida nei collegi Firenze partita timida Casarenzi si pensa già al dopo voto bene è il momento del nostro stacco pubblicitario rimanete però con Nettuno TV ripanete sul canale 99 99 nettuno tv 6 6 9 9 9 9 Grazie.